Quali sono i punti che servono davvero per trasformare il tuo studio dentistico in un vero e proprio marchio, in un brand? Io mi occupo proprio di questo, quindi voglio aiutarti da questo punto di vista. Innanzitutto è fondamentale trovare un posizionamento, un angolo d'attacco. Cos'è l'angolo d'attacco? L'angolo d'attacco è quella focalizzazione unica che riesci a trovare soltanto analizzando per bene la tua concorrenza, quindi parliamo di concorrenza diretta e indiretta, quindi non solo tutti i dentisti, ma con una speciale attenzione la concorrenza diretta, gli dentisti che hanno l'indirizzo che hai tu. Significa che se tu sei specializzato in ortodonzia o in implantologia, dovrai fare attenzione a cosa comunicano e in che modo comunicano, anche in maniera inconsapevole, i tuoi colleghi. Devi fare un elenco dei tuoi colleghi che fanno questa attività qui e verificare sia sul campo che sul web chi è davvero il leader, chi è il co-leader oppure il secondo e chi è il terzo. Devi riuscire a capire quale spazio occupi tu all'interno di questo mondo. Se tu sei il terzo o il quarto o il decimo, poco cambia, vuol dire che fino adesso non sei riuscito attraverso la tua comunicazione, attraverso il tuo marketing, attraverso il tuo angolo d'attacco, a bucare attraverso un messaggio che possa attirare la loro attenzione. Se invece fai parte dei primi due, devi trovare il motivo per cui sei in quelle posizioni. Di solito il co-leader è colui che comunica anche inconsapevolmente, mi rendo conto in questo momento, l'esatto opposto rispetto al leader. Fatto questo, trovata la tua focalizzazione, il tuo angolo d'attacco, se per esempio la focalizzazione la determini dal punto di vista clinico, quindi la tua branca di appartenenza, devi assolutamente trovare un nome adatto. Perché devi trovare un nome e non puoi chiamarti studio dentistico dottor Bianchi? Beh, perché all'interno del nostro paese ci sono decine di dentisti col tuo cognome, probabilmente, e comunque il tuo cognome è associato alla tua persona. Quello che dovresti fare è dissociare questi due elementi e renderli in due brand separati. La tua persona come professionista e il tuo studio come elemento rivendibile, rispendibile, che abbia una dignità sua, che abbia un'autonomia sua e chiunque entri lì dentro possa ottenere delle cure standardizzate di qualità come quelle che garantisci tu. Questo è un elemento cardine su cui bisogna basare la tua comunicazione per ottenere questo tipo di risultato. Come si crea un nome? Lo trovi nel mio prossimo libro, è spiegato per file e per segno. Non ti sto a tediare, perderemo troppo tempo. Quello che devi fare poi successivamente è creare uno slogan. Perché devi creare uno slogan? Perché attraverso uno slogan o un payoff, chiamalo come ti pare, al tuo nome diamo anche un indirizzo, diamo anche un cognome, questo principio ti permetterà di essere riconosciuto, riconoscibile e di mettere letteralmente in bocca le parole giuste ai tuoi pazienti per fare il cosiddetto passaparola. Perché oggi il passaparola sicuramente si farà in maniera spontanea, però c'è un problema. È incontrollato, non sai cosa dicono di te, come dicono di te, perché sei conosciuto, o perché non sei conosciuto, perché vorresti essere conosciuto. Attraverso uno slogan, quindi una frase, non ad effetto, ma una semplice frase che indichi il tuo posizionamento, quello che hai sviluppato nella parte iniziale di questo processo. Quindi, creato uno slogan e un nome adeguato, riuscirai ad ottenere sicuramente quella che è la struttura base per costruire un brand. Perché il brand, come saprai, non si costruisce dall'oggi al domani, quindi non occorre un nome, uno slogan e un logo bello per creare un brand. Il brand si costruisce nel tempo, però attraverso delle basi solide. E l'ultimo di questo pilastro è sicuramente quello relativo al logo. Il logo è un elemento differenziante molto forte, perché attraverso le immagini si comunicano tante cose in maniera diversa. Me ne occuperò in un altro video.